Vuoi raccogliere capitali da investitori? Beh, allora non puoi non avere un pitch deck da presentargli in prima istanza. È un documento di estrema importanza per presentare in pochi minuti il tuo progetto imprenditoriale agli investitori e in questo video vedremo in poco tempo come approcciare un pitch deck attraverso la metodologia di Sequoia Capital, attraverso il loro template. Sequoia Capital è uno degli fondi di investimento di venture capital più importanti al mondo con sede in Silicon Valley, ovviamente, e che ha dato un template proprio perché gli investitori sono molto metodici e sono abituati a vedere le informazioni organizzate in un modo specifico. Perché dovresti guardare questo video e ascoltarmi? Beh, io sono Alessio Iboceda, insieme a Giulia D'Amato, siamo i cofondatori di Startup Geeks e ci occupiamo di formazione imprenditoriale. Abbiamo supportato oltre mille team e oltre duemila persone a lanciare il proprio progetto imprenditoriale, contribuendo alla loro raccolta da oltre 10 milioni di euro di capitali overall e il pitch deck è uno degli elementi fondamentali su cui gli aiutiamo a lavorare. Il pitch deck è fondamentale anche perché spesso quello che noi vediamo è che ci sono tantissime persone che hanno una presentazione aziendale della propria idea, ma poche persone sanno come ordinare le informazioni e riassumere le informazioni per fare in modo di poter presentare in pochi minuti questa cosa ai potenziali investitori. Quando si va da un investitore non si può presentare la propria idea per un'ora, perché non gli interessa andare così tanto nei dettagli se in pochi minuti può anche capire che non gli interessa. E di conseguenza lui ti dirà, ho bisogno di un pitch deck, non di un super pippone sulla tua bellissima idea che rivoluzionerà il mondo. Bene, i template, tra cui quello di Sequoia Capital che vedremo oggi, serve proprio per darti uno schema di lavoro, un ordine delle informazioni ed essere più efficace possibile quando vai a parlare con gli investitori. Noi come Startup Geeks, anche per noi stessi, abbiamo creato tanti pitch deck dal momento che abbiamo fatto due raccolte di capitali da investitori e una raccolta di capitali tramite banca e di conseguenza abbiamo dovuto presentare la nostra azienda all'esterno in varie occasioni. In totale abbiamo raccolto circa 1,4 milioni di euro per noi stessi. E allora andiamo a vedere cos'è un pitch deck e come crearlo. Un pitch deck, come detto, è una presentazione di un progetto imprenditoriale che viene fatta in pochi minuti con pochi slide. L'obiettivo è stimolare l'interesse dell'investitore ad approfondire ulteriormente, ad iniziare a farti domande e quindi a capire tutti i dettagli del tuo progetto al fine di valutare un investimento. Andiamo attraverso il template di Sequoia Capital e vediamo tutti gli elementi che compongono questo template. Si inizia dalla copertina, molto semplice. È l'apertura del tuo discorso, è la prima slide della presentazione. Cosa non può mancare? I tuoi contatti, il tuo nome, il logo e il nome della società ed eventualmente una unique value proposition, quindi una tagline che aiuta le persone a capire subito di che cosa si tratta. Nel nostro caso noi abbiamo Startup Geeks, la EduTech Company dell'imprenditorialità. È una frase di questo tipo, ma che ti aiuta a presentarti brevissimamente dicendo per esempio buongiorno, sono Alessio Voceda, sono il cofondatore di Startup Geeks, la EduTech Company dell'imprenditorialità e sono felice di essere qui oggi a presentarvi il nostro pitch. E poi si va avanti. La seconda slide è quella del problema. Non si parla della soluzione, si parla di che problema vuoi andare a risolvere sul mercato. Vuoi menzionare dei dati? È fondamentale menzionare dei dati per far capire che il problema non è una cosa che tu pensi che ci sia, ma è una cosa che hai capito sul mercato che c'è attraverso il processo di validazione. E quindi puoi dire 86% delle persone che fanno bla 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 hanno questo problema. E l'ho scoperto facendo X questionari online e X interviste. Insomma, devi far capire in questa slide che esiste un problema da risolvere. Nella slide 3 spiegherai la soluzione. Quindi parli prima di problema e come lo risolvo e si spiega quindi la soluzione. Quindi qual è la tua soluzione, quali sono gli elementi di unicità rispetto alle alternative. Nella slide 4 si spiega il timing, il why now, il perché adesso. Bisogna spiegare perché oggi è il momento migliore di sempre per portare avanti questo progetto. Il timing infatti è uno degli elementi più influenzanti rispetto al successo di una società. E quindi bisogna spiegare anche agli investitori che il tempo è quello giusto e che non è troppo presto né troppo tardi per lanciare questa idea. Successivamente andiamo alla slide dopo che fa capire la dimensione del mercato. In questa slide quello che viene illustrato è l'analisi Tamsamsom. È un'analisi per capire la dimensione proprio del mercato e per spiegarla agli investitori. Perché? Perché anche questo, anche quanto è grande il mercato, influenza tantissimo la decisione degli investitori di investire oppure no nella tua azienda. Successivamente si va nella slide dei competitor e quindi di solito in questa slide ci sono dei grafici o una tabella di benchmarking che confronta la tua soluzione con le tue funzionalità ai competitor e mostra che i competitor non hanno alcune delle cose che hai tu e che quindi sei più completo. Oppure si può fare un grafico cartesiano in cui sulla base di determinate variabili si mostra che tu sei più avanti rispetto ai competitor. È importante far capire chi sono i tuoi competitor e che vantaggi competitivi e come ti differenzi da loro. Successivamente c'è la slide del prodotto. In questa slide si va più nel dettaglio sulle funzionalità e sugli elementi chiave del prodotto. L'avrai già toccato leggermente nella slide della soluzione ma in questa fase proprio vai a far capire anche le metriche che hai raccolto in fase di validazione per far capire il potenziale del tuo prodotto. E poi si spiega il modello di business cioè devi spiegare come guadagnerai devi spiegare il prezzo a cui venderai il prodotto oppure se hai un abbonamento quali saranno gli scaglioni di prezzo come hai determinato il tuo prezzo di vendita e quanto ti aspetti di guadagnare dal singolo cliente quindi il customer lifetime value. È importante quindi essere chiari su come andrai a monetizzare perché altrimenti la domanda che ti faranno è sì, bello tutto questo ma come farai i soldi? questa è la slide che gli spiega come fare i soldi. Poi un'altra slide fondamentale è quella del team cioè dovrei spiegare chi sono i co-founder o se sei da solo chi sei tu e perché siete la miglior persona al mondo le migliori persone al mondo per portare avanti questo progetto imprenditoriale. Non gli interessa sapere quello che avete fatto in tutta la vostra vita gli interessa sapere pochi elementi che gli facciano capire ok, sono le persone giuste di cui fidarmi per portare avanti questo specifico progetto magari perché avete un'esperienza nel settore in cui state lanciando la vostra idea o avete una grande esperienza nella tecnologia che vi serve per lanciarla. E poi la slide dei financials in questa slide si mostra il trend di fatturato che vi aspettate di avere e il trend di utile o perdita che vi aspettate di avere in modo tale che possano capire quando vi aspettate che l'azienda diventi sostenibile e quanti capitali brucerete prima di diventare sostenibili. Poi c'è la slide della roadmap quindi quali saranno i prossimi passi principali obiettivi che raggiungerai nei prossimi tre o cinque anni e l'ultima slide è quella dell'investment proposition cioè la slide in cui spieghi quanti capitali stai cercando e a che valutazione perché questi capitali sono quelli che ti servono per portare avanti il progetto imprenditoriale e quindi qua c'è la richiesta. Nell'ultima slide ci sono i ringraziamenti e ci sono ancora i tuoi contatti per chiudere la presentazione con una slide di chiusura e per lasciare i contatti in ottica di approfondimento. Può succedere poi ed è consigliabile fare in modo che dopo l'ultima slide abbiate le cosiddette slide di backup cioè sono slide più dettagliate che vanno a dettagliare gli elementi sui quali vi aspettate che ci potrebbero essere delle domande più approfondite. Ecco queste slide non le presentate davanti a un investitore ma le avete lì pronte per fare in modo di tirarle fuori se successivamente al pitch vi vengono fatte delle domande effettivamente più specifiche e che quindi avete le risposte nelle slide di backup. Detto questo in questo video abbiamo visto come creare un pitch deck sulla base del template di Sequoia Capital e abbiamo spiegato brevemente ogni slide su cui lavorare ogni slide da compilare ma detto questo se ti interessa sapere di più del mondo startup di come trasformare l'idea in un business spendendo poco velocemente e minimizzando i rischi ti invito a guardare il nostro video che trovi qui a lato oppure a scoprirci su startupgeeks.it e sui nostri social in bocca al lupo per lo sviluppo del tuo progetto imprenditoriale ciao ciao